Musica E' partito? Sì è partito Chi è che saluta? Ok ho stato duello No cazzo Va bene lasciamo stare Ok vai Allora io mi chiamo così Andrei 98 full Perché io sono troppo full La password è 1,2,3,4 1,2,3,4 Oddio 225 punti cos'è? Allora Laker senti un po' Laker Odiate la camera Oddio non c'è Ma Master sta zitto Sta zitto un attimo voglio parlare con il povero Laker Bastava urlarlo diciamo Laker io ho scelto forbici tu cosa hai scelto? Non ti fidare oppure ti da dire a volte sì a volte no No Ti casco sempre E poi nei commenti scrivo sempre GG E comunque E comunque ricordate Ma io non posso vedere le carte di nessuno Le carte di nessuno? Ok vai Laker tocca a te Inizia a te Ok sepportura sciocca mi sembra una cosa Stai registrando scusa? Io sì sì sto registrando Ah ho dimenticato di salutare Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video Dove io faccio un duello con il mio iscritto Laker saluta Ciao Ciao Eh c'è Mastra C'è Mastra minchione che erano delle palle Freaking altava targaro muxi Non mi piace Non mi piace Oh bello Ok tocca a me Ricordate 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 il quattro video Passate ogni fan al di iscrivete Perché io vengo parecchio Oh che cazzo è successo? Madonna Ok Mi chiamata c'è in inglese da paura Ok comunque tu l'hai evocato nella standy phase Quindi io questo mostro l'ho posizionato nella main phase Quindi dopo Ah capito Ok passo vai tocca a te Ok quindi teoricamente tu nella nata sei una bestia Eh discreto Discreto vuol dire sette Vabbè siamo già tre minuti Abbiamo appena appena il terzo Ok ma quando mi sei già ti composti di tipo fuoco Ma non ne sono molto sicuro La manda 5 euro e tanti 2.7 Ok Ma stavolta non te lo puoi riguare Perché quando è specialmente tributo a un monstro di tipo fuoco Non è distrutto e tributato E' un rivelamento che non è la stessa Io ho detto qualcosa E' però stavolta non te lo riemo Ma stavolta sei troppo rompipa Attaffila gente mentalmente in un modo Ok 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 faccio una cosa molto Normale Ma come fai a farlo? Ah ecco Ah bello Ok lo ho special summonato Adesso li mando al cimitero a entrambi Come è al cimitero? Mi rappresenta Per evocare Lui Minchia buono Attivo città ingranaggio Ok Passo vai Waboku si Waboku è lui non perde i life points Sì ma tu devi fare Master tu devi fare lo spettatore Non il critico Io faccio il critico Ma quanti ne hai? 3 Ma andiamo Ascoli di latissimo Senti master ti ho appena detto di non fare il critico Ok Mi piace E' maledettamente Ok si rievo Ok Quindi lui va al cimitero Lol Cazzo Vabbè Special summon cyber drago Evoco lui Gadget giallo Mi aggiungo la mano lui Bene vai così A 2007 di attacco Cosa succede Di brutto Vabbè non importa Attivo potere del mago su cyber drago Li guadagna 1500 di attacco E sale a 3000 e 6 Attacco lui 3000 e 6 di attacco Distrutto Si 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 Oddio siamo a 7 minuti Ok ciao bello Ok va bene non importa Congenio giallo a capo lui Vieni distrutto Aspetta Ma si è un 200 Ok Mi sa che la che vince Che vince Oh eh io non lo so A molti life con se il suo deck non l'ho mai visto io Ma che cazzo Ti pareva Poi attivo cerchi di dare il fuoco Cosa fa Mandaci 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 E vieni con lui Poi Attivo Attivo questa Subirata Ok quale target Ok No 717 Vuol dire coperte Allora Aspetta Me la riporto L'ariaquipaggio Vabbè Ho fatto bene adesso Mi hai visto che c'hai di pezzi Cos'è di in mano E Passo Ok pesco Mi credo ci hai fatti diversi da quelli italiani Ad esempio sulla chiave blu Lui in italiano E che ogni volta Quando viene distrutto Tu evo Va bene E evo con normalmente bestie in granaggio antico Perché c'è jarptown Attacco lui 900 perdi No perché No Ah si ne ha mille scusa 400 400 Bene Tacco anche con bestia Per di 2000 E anche con yellow gadget Ok Ok Vediamo come risponde Senti mastercraft Tu hai delle tendenze maniacali Che nessuno ha Ritieniti Non tanto fortunato Dico Più che altro Ritieniti un po' speciale Ma non in senso posizione Sei un po' strano ecco Boh niente Finito Eh boh Vai Facco con lui Per di 2000 Ok abbandonato Ok master Fammi un attimo concludere il video Laked Grazie per il duello Mi ha fatto molto piacere Il tuo coinvolgimento Riguardo i miei video E mi ha fatto anche molto piacere Fare questo duello con te E lo stesso vale per Per voi iscritti Sì Voi iscritti potete sempre Duellare Io vi dico i miei orari Tutto eccetera eccetera Magari avrete anche la sfiga Di Insomma di incontrare Mastercraft Perché infatti È una sfortuna però Non importa Per questo episodio è tutto Io e laked e master Vi salutiamo Ciao 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 Siete così timidi E vabbè Io vi saluto E al prossimo video E al prossimo video